allora mattia secondo me che dici secondo me può andare come dire va bene stavamo organizzando il nuovo programma di natale in stato quotidiano le stelle ore del cielo e viene in una grotta credo al gelo scusa noi siamo in diretta ci stai rovinando la diretta cosa vuole ma chi è lui sono il re maggio ho perso la cometa mi sa che hai perso anche l'altro due re magi hai detto il re maggio scusa ma tu devi arrivare il 6 gennaio qui ancora dobbiamo partire con natale che già siamo arrivati alla fine e poi quest'anno i regali li facciamo noi di stato quotidiano quindi voi sarete i protagonisti del nuovo programma di stato quotidiano regali di natale giocheremo insieme a noi ci divertiremo e ci saranno tanti regali per voi e io dove vado? e non so io dove devo andare da quella parte regali di natale prossimamente su stato quotidiano che sappiamo scrivetevi grazie 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 grazie